E' troppo presto per parlare che siamo 8 punti, il campionato è appena cominciato, è una interposta. Siamo stati compagni, noi siamo stati più pericolosi di loro, poteva finire anche 0-0, però alla fine l'abbiamo spuntata a noi e per noi è giusto. Si respira un'area diversa e siamo cambiati, però è ancora troppo presto, però c'è entusiasmo e c'è grande voglia di dimostrare e di fare. Io sono in porta per parare, è il mio lavoro e penso che in una squadra ognuno deve dare il suo contributo nelle prestazioni e nelle vittorie. Quando non prendi gol, quando pari già dopo due minuti, per fatto psicologico è un lato positivo.